ciao a tutti e benvenuti su hotspot italy oggi mi trovo in veneto esattamente a campofontana una graziosa località del parco naturale della lisinia in provincia di verona come vedete questo è il parcheggio gratuito dove si può lasciare l'auto e dove vicino si trova anche un parco giochi da qui partono i numerosi sentieri siamo circa 1224 metri sul livello del mare pensate che qui abitano stabilmente tutto l'anno solo 85 persone ma d'estate campofontana si riempie di escursionisti che intraprendono i panoramici sentieri che partono da qui potete trovare la chiesa di san giorgio e dove è consigliata la visita accanto al parcheggio si trova un bar dove potete gustare un'ottima collezione e un negozio di alimentari in cui potete farvi preparare degli ottimi panini per le vostre escursioni tornando al parcheggio principale dove avete lasciato l'auto potete trovare dei tavolini dove fare un vostro picnic e come dicevo anche dei giochi per i vostri bambini in fondo al parcheggio trovate il cimitero del paese al cui interno potrete ammirare delle steli funebri di inizio novecento ma soprattutto la tomba di Suarpura la religiosa nata qui nel 1914 è rimasta nel cuore di molti per il supporto affettivo ed educativo oltre che spirituale ancora oggi molte coppie che si rivolgono a lei in preghiera per riuscire ad avere un figlio e ricevono questa grazia portano qui alla sua tomba foto e fiocchi in segno di gratitudine tra l'altro a marzo è stata avviata la pratica per la beatificazione e canonizzazione vicino al cimitero potrete trovare una fontana d'acqua per riempire le vostre borracce ma anche all'inizio del parcheggio esiste una anche se non so se è potabile il video finisce qui lasciate un like se vi è piaciuto il video grazie a tutti grazie a tutti